Che fai? Posso portarla oltre la baia? Lo prepari per volare sull'acqua e poi ti lanci? Non c'è il pilota automatico. Potevi andare ovunque, essere qualunque cosa, ma sei tornato qui. Anche tu? Si vede che siamo due idioti. Non mi è mai importato sapere chi fossi. E hai fatto bene. Ma Gotham dovrebbe conoscere l'eroe che l'ha salvata dalla morte. Chiunque può essere un eroe, anche un uomo che fa una cosa semplice. È rassicurante come mettere un cappotto sulle spalle di un bambino per fargli capire che il mondo non è finito. Bruce Wayne! Ok, sulla destra! Ci siamo! じゃあ! No! Get back from us! Ecco la detonazione! E' al di là della baia, lontano dalla città!